50 x 70 quadro, murales, la misura di 50 x 70, all'interno di una cascina. Ecco, vi faccio vedere la cascina dove sono, vicino a Merone. Guardate il tetto, sta venendo buio tra poco. Questo è il mio quadro ultimato oggi, il 6 dicembre 2017. Tantissimi colori, giallo, perfino viola, nero, verdone, blu, turchese, il paesaggio sottostante alla luna e l'albero di fianco che proporziona il tema del quadro. Guardatelo bene, 50 x 70, all'interno di una cascina e mi trovo a Merone, in un rude abbandonato. Ecco, tra poco viene buio e me ne vado. Vi saluto da questo YouTube e la prossima volta sull'altra parete faccio diversi quadri di questa dimensione, con diversi colori, sempre a murales. Sto imparando la tecnica del murales, che poi non è facile, perché è difficile fare un murales. Vi saluto da Aldo Maspero.